A Bercerola contro la Steau è un ricordo più bello. La giornata di oggi è un po' un'occasione persa per il Milan? Si chiede di sì, come lo era ieri per l'Inter, oggi lo è per il Milan. Le distanze rimangono invariate, quando mancano sempre meno partite questo è un vantaggio. La squadra si stava provando e quindi uno magari si nervosisce non tanto perché le cose non vanno bene a livello personale, ma perché lui ha tirato la carretta per tutta la stagione, quindi credo che a Ibar non si possa dire niente da questo punto di vista. Io mi sto godendo la mia vita, in questo momento sono assolutamente indipendente e felice. Se un giorno ci sarà la possibilità di collaborare con questa squadra, io sarò contentissimo. Io vorrei solamente essere considerato una risorsa e non un problema. La rosa del Milan e poi ho giocato io, le rose erano delle rose probabilmente superiori a questa squadra.